SIGLA 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 Sai che possiamo farcela. Rifugiamoci nella foresta. Ci prenderanno. Forse no. Non ce la faremo per 5 miglia. SIGLA Benvenuti, benvenuti. È il momento di scegliere i coraggiosi ragazzi che avranno l'onore di rappresentare il Distretto 12 alla 74esima edizione annuale degli Angry Games. È il tuo primo anno, Primi. Il tuo nome è lì dentro per la prima volta. Non sceglieranno te. Primi Rose Everdeen! Primi! No! No! Mi offro volontaria! Mi offro volontaria per il tributo! I nostri tributi Pita Malar e Katniss Everdeen. Vogliono solamente un bello spettacolo. Siamo 24, Gayle. Solo uno di noi torna indietro. Sei qui per farmi sembrare carina. Sono qui per farti fare colpo. E così fu stabilito che ogni anno i dodici distretti di Panem offrano in tributo un ragazzo e una ragazza tra i dodici e i diciotto anni. Per essere attestrati all'arte della sopravvivenza e preparati a combattere fino alla morte. È il momento di mostrargli ogni cosa. Fa che si ricordino di te. Ogni giorno spero di trovare un modo per dimostrare che non mi possiedono. Anche se dovessi morire, continuerò ad essere me stesso. Non posso. Non posso permettermi di pensarla così. a tutti. 9 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 19 15 15 16 17 16 17 19 Grazie a tutti.